Entrano nel vivo i festeggiamenti per i cent'anni della ferrovia Vigezzina a Centovalli, un convegno molto interessante, toccati diversi aspetti di rilievo, a partire dall'argomento trattato da Pier Antonio Ragozza, il treno della libertà. Il treno della libertà perché durante la Seconda Guerra Mondiale, in particolare nel periodo della Resistenza, la Vigezzina ha fatto da tre union fra la Svizzera, che era un paese neutrale e libero, e la zona libera dell'Ossola, che oggi ricordiamo come Repubblica dell'Ossola. Sono arrivati degli aiuti, la Svizzera attraverso questo treno ha anche accolto tanti profughi, tanti bambini, quelli che venivano chiamati i bambini del Paese del Pane Bianco. E poi durante la Repubblica dell'Ossola sono pure arrivate anche un treno di armi con una sparatoria alla frontiera, una cosa proprio un po' da film. Finita la guerra, la Vigezzina ha riportato in Ossola queste famiglie, questi profughi, questi bambini. E poi la Vigezzina è stata anche protagonista di se stessa nel 1974, quando con le immagini che abbiamo visto anche sullo sfondo, che abbiamo avuto grazie a Viceo Azzurra TV, è stato ricostruito quello che era accaduto e quelle immagini ci hanno riportato, era il 74, quello che era accaduto 30 anni prima. Una delle pagine più perniciose della Valle Vigesto è stata quella del 1978, il 7 agosto, con la brutta alluvione che in effetti ha provocato danni e morte. In quell'occasione la ferrovia ha svolto un ruolo essenziale, fondamentale. Certamente, in quanto la Vigezzina è rappresentata per molti mesi, subito dopo l'evento alluvionale, l'unico mezzo di trasporto sia per le persone, sia per tutte le necessità della ricostruzione, tutti i mezzi d'opera, i materiali che sono stati trasportati in Val Vigezzo. Senza la Vigezzina non ci sarebbe stata la ricostruzione con i tempi così rapidi e così certi come in effetti poi è avvenuto.